Buongiorno ragazzi, oggi sono a Bayreuth in Germania e sono venuto qui dai amici di Cybex scopriremo qualcosa che farà contenti mamma e papà ma anche bambini ma prima, sigla! Un video toccante, una mamma alla guida della sua vettura con un bimba seduta nel sedile posteriore sul seggiolino sorrisi, sguardi d'intesa, coccole a distanza poi la distrazione, l'incidente e lo spettatore che resta con il fiato sospeso con la pace ritrovata grazie a lui, Cybex a Norris segni particolari, primo seggiolino auto al mondo con airbag integrato è stata una presentazione breve ma intensa, quella che ha visto il protagonista Martin Posse founder and chairman di Cybex, azienda che nel mercato dei seggiolini auto vanta il ruolo di leader per noi è un sogno che si realizza, con questa frase si racchiude un percorso unico iniziato addirittura nel 2005 che finalmente, dopo tanti anni di test, ha visto la luce in questa seconda parte del 2021 tutto nasce da Bayer, città della Baviera settentrionale in Germania dove ci siamo recati per ammirare l'azienda e il suo nuovo prodotto lì dove in questo piccolo borgo di 70.000 abitanti, ben in 600 lavorano proprio per Cybex e dove tutto ebbe inizio quando partimmo, ricorda ancora Martin Posse, furono due le promesse creare i migliori seggiolini al mondo e investire sulle migliori persone per farlo e quello di integrare un air belt in un seggiolino auto era un targo che mi iniziò a ronzare in testa da subito il percorso è stato graduale per un'azienda che in 16 anni di vita ha ottenuto oltre 450 premi tra nazionali e internazionali riuscendo a diventare leader nel suo segmento di mercato e ora inizia una nuova era, grazie a Cybex e Norris non si tratta di un nuovo seggiolino auto, ma del risultato di 10 anni di test ed esperimenti nuovo software, nuovo algoritmo dal quale dipende tutto quando esce l'air belt al movimento che deve compiere, per questo non è stato svelato nulla a riguardo sensori integrati, un team di 20 ingegneri provenienti da tutto il mondo a lavorarci e la consapevolezza che siamo arrivati davvero ad un punto di svolto epocale nei nostri test abbiamo analizzato che l'introduzione dell'air bag aumenterà la sicurezza del bambino del 50% ricorda ancora Marcos e siccome non vogliamo che la sicurezza sia un lusso per pochi abbiamo deciso di inserire il nostro Cybex a Norris sul mercato con un prezzo che possa essere mediamente per tutte le tasche a Norris sarà infatti in vendita in Europa a 699 euro unica pecca, una volta esploso l'air bag il seggiorino andrà sostituito integra in me con un'altra cosa a Norris sarà un'altra cosa vorrei il nostro canale